Io questo fatto del sotto le stelle, la notte bianca, la notte rosa, non proprio non le capisco. Secondo me sono la notte al verde che è nella lira 1, la gente guarda parecchio le vetrine. Io vedo che quando sono svolte qua da noi hanno spostato molte persone, quelli che guadagnano in genere sono i ristoranti e i bar soprattutto. Sotto le stelle una volta si trombava, ora ce ne si racconta. Anche adesso perché mentre c'è la notte bianca tutti sono nel centro, quelli che vanno là a marzi sono meno controllati. Sì, ma a marzi, ma con le problematiche. La puttaniere, andiamo a vedere. Qualcosa tocca fare nella vita. Sotto le stelle per provare a vendere di più anche di notte, quindi proviamo a vedere se il corso al di là del sabato pomeriggio con la grande calura vediamo se di notte si vende qualche maglietta di più. Come vedi questa notte bianca? Ma è notte bianca o è il topic sotto le stelle? Il topic sotto le stelle. Allora ce la chiamo notte stanca parecchio. Stanca parecchio. Quanto hai lavorato oggi? Più di quello che ho lavorato tutto il giorno. In due ore ho lavorato più di tutto il giorno. Ma gli arettini hanno comprato di più sotto le stelle? Si spera. Hai lavorato, lo saprai? Sì. Parecchio di più. Compron più tanga o una mutanda normale? Una mutanda normale? Il tanga non vuoi fare più. Il tanga di sera fa fredda le ciappe. Ma grazie a te il negozio mi è venuto più finso. Come vanno queste vendite stasera? Non vanno tanti. Non vanno tanti? Ma anche secondo me, ma... Vendi un gatto senza braccia e senza bocca. È un finto gatto di plastica secondo me. No, ci stanno le braccia, c'è anche la bocca. È un gatto che non fa le fusa. No, no. Queste orecchiette vengono dalla copertina di Playboy che hai fatto nel mese di... Eh no, il mese no. Il mese di luglio. Il mese di luglio ha fatto. Il mese di luglio. Anno, anno, anno. 2010. E a Vittini hanno acquistato di più sotto le stelle? Tanto. Tanto di più? Tantissimo. Soprattutto cosa? Profumi. Profumi di ogni genere? Di ogni tipo. La rida, un bacio. Ma infatti l'ho vista entrare con un vestito bianco. C'era i saldi al 100%, sono sulle sciarpe della presa. Ai quanta acquisti, questo è il trastollato dei locali. Diciamo che per il momento mi sono trastollato nei locali, però... Ho anche guardato i vari negozi, le varie vitrine. Hai sondato un po' di... Ho sondato il terreno in maniera che in settimana prossima potrò andare a comprare qualcosa di interessante. Ti gatti così il giorno del matrimonio? Sì. È per me. Una sposa originale. Una sposa per i saldi. Vai. Ciao, io ero sondo TV. Ciao a tutti. Sto arrivando l'ora. Ma comprare, muovete. Ma comprare, muovete. Tutte le mie cose. Shopping in bicicletta? La vita. Se fai le prove per domani mattina al mercato. Io lavoravo in un ricoccio. Quindi io? Lavoravo? Dai, bravo. Oh, perfetto. Oh, perfetto. Ma gli arettini sotto le stelle hanno comprato di più? Ma... Per me, secondo me no. O guardavo le stelle cadenti? No, guardavo le stelle cadenti. Salute agli arettori del TV. Eh? Eh? Che roba. Che rubina. Grazie. Grazie. Grazie.